Si sono presentati in centinaia all'assemblea di banchia, hanno preso autobus da tutte le città della Spagna per urlare la propria rabbia. Non sono indignado scalmanati, ma i loro padri, tanti pensionati, piccoli risparmiatori. Lanciato in pompa magna nel 2011, l'istituto di credito ha visto il tracollo appena un anno dopo, costringendo il governo a richiederne il salvataggio all'Europa e imponendo ingenti perdite ai correntisti. Non abbiamo necessità aggiuntive di capitale, ha detto il presidente tra i fischi, però, anche se andiamo nella giusta direzione, non siamo degli ingenui, sappiamo che ci resta molta strada da fare. Per i vertici il peggio è alle spalle, ma centinaia di persone sono ancora impantanate nelle procedure di arbitraggio volute dal governo per permettere il recupero di almeno una piccola parte dei risparmi. Non avranno una banca in buone condizioni fino a che non risolveranno i problemi della maggioranza degli azionisti, spiega il rappresentante di un'associazione per la difesa dei correntisti. Azionisti, loro malgrado, va sottolineato, oltre 200.000 le persone che erano state convinte a comprare complicati prodotti finanziari, venduti come conti di deposito ad alto rendimento. Per salvare il salvabile, il mese scorso questi titoli preferenziali sono stati scambiati per azioni ordinarie della banca ad un prezzo scontato, ma il valore da allora è già crollato del 50%. Grazie Grazie Grazie